Nessuna progressione di regno in regno, nessun avanzamento da un regno inferiore a un regno superiore. È stato chiesto se sia possibile per uno che è re di la gloria teleste avanzare col tempo fino alla gloria celeste. La risposta a questa domanda è no. Le scritture sono chiare in proposito. Parlando di quelli che vanno nel regno teleste, la rivelazione dice ed essi saranno servi dell'altissimo, ma là dove Dio e Cristo dimorano, nei mondi infiniti essi non potranno mai venire. Nonostante questa dichiarazione, coloro che non capiscono la parola del Signore sostengono che pur essendo vero il fatto che essi non possono andare dove è Dio, tu è nei mondi infiniti, tuttavia con il tempo essi andranno dove? Egli sarà stato prima di andare più in alto. Questo ragionamento è falso, illogico, e creadano inducendo le persone a pensare di poter rimandare il loro pentimento perché con l'andare del tempo potranno raggiungere l'esaltazione nella gloria celeste. I regni avanzano in direzione diversa. Vediamo ora quanto sia errato questo modo di ragionare. se con il tempo coloro che entrano nella gloria celeste possono progredire finché non arrivano allo stadio in cui ora è il celeste, allora essi sono nella gloria celeste anche se il celeste nel frattempo è andato in avanti. Stando così le cose, dico questo per amor di discussione perché in realtà non è vero, allora essi partecipano a tutte le benedizioni che ora sono celesti. Questo significa che essi divengono dei, ricevono l'esaltazione, ottengono la pienezza del padre e ricevono la continuazione dei posti in eterno. Il Signore tuttavia ha detto che queste benedizioni, che sono benedizioni celeste, essi non potranno mai averne perché ne sono esclusi per sempre. Io ho sentito paragonare la gloria celeste terrestre e teleste alle ruote di un treno. La seconda e la terza ruota raggiungono il punto della prima. Questa nel frattempo si è spostata e si trova sempre davanti ad esse, alla stessa distanza. Questo esempio non è calzante. Le ruote non corrono sullo stesso binario e non vanno nella stessa direzione. Il terrestre e il teleste sono limitati nelle loro possibilità di avanzamento. Limitazione nella progressione celeste. Nella sezione 131 per mezzo del profeta Joseph Smith, il Signore ha detto, nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradi. Al fine di ottenere il più alto, un uomo deve entrare in quest'ordine del sacerdozzo, ossia la nuova ed eterna alleanza di matrimonio. E se non lo fa, non può raggiungerlo. Può entrare nell'altro, ma ciò è la fine del suo regno, non può moltiplicarsi. Così vediamo come anche nel regno celeste alcuni sono ostacolati e non possono avanzare verso l'esaltazione. La sezione 132 chiarisce utilemente questo punto, poiché questi angeli non obbediranno alla mia legge, ragione per cui non possono moltiplicarsi, ma rimangono separati e celibi senza esaltazione, nella loro condizione di salvezza, per tutta l'eternità. E non sono dunque dei, ma angeli di Dio per sempre. Questi angeli di cui si parla qui includono coloro che entrano nel regno celeste, ma che non raggiungono la gloria più alta di quel regno. In questa stessa sezione il Signore dice, in verità, in verità io vi dico, a meno che tu obbedisca alla mia legge, tu non potrai giungere a questa gloria, poiché è stretta la porta ed angusta la via che conduce all'esaltazione e alla continuazione delle vite. E ve ne sono pochi che la trovano, perché non mi ricevete nel mondo, né mi conoscete. Ma se mi ricevete nel mondo, allora voi mi conoscerete e riceverete la vostra esaltazione, poiché è la vita, laddove io sono, sarete voi pure. Questa è la vita eterna, conoscere il solo saggio e vero Dio e Gesù Cristo che egli ha mandato, io sono colui. Dicevete dunque la mia legge, là che la porta è spazioso il cammino che conduce alle morti, e ve ne sono molti che vi entrano, perché non mi ricevono, né obbediscono alla mia legge. Ora, se un uomo è privo per sempre della continuazione delle vite, e il non avere questa benedizione è indicato come il cammino che conduce alle morti, allora egli non può giungere alla gloria celeste nei mondi senza fine, perché la gloria celeste è la continuazione delle vite o moltiplicazione eterna, cioè essere come Dei, cioè figli di Dio. Differenze nei tipi dei corpi risorti. Nella sezione 88 di Dottrina Alleanza apprendiamo che c'è una differenza dei tipi di resurrezione, alcuni risorgeranno con corpi celeste, altri con corpi terrestri ed altri ancora con corpi telestri, e ancora altri risorgeranno senza alcun titolo o potere di gloria, e questi saranno i figli di perdizione. Leggete i versetti 17 e 33, dove Paolo rende testimonianza di questo con le seguenti parole anche. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti e altra è la gloria dei terrestri, così pure della resurrezione dei morti. Se un uomo vuole entrare nella vita, ei deve attentersi alle leggi del Vangelo, osservando tutti i comandanti fino alla fine nella sua vita mortale. Questa è la dottrina del profeta Joseph Smith, io ho parlato al popolo, ei dice, dimostrandovi che per ottenere la salvezza non dobbiamo fare soltanto alcune cose, ma tutto quello che Dio ha comandato. Gli uomini possono predicare e mettere in pratica tutto eccetto quello che Dio ci comanda di fare, e alla fine essi saranno dannati. si può pagare la decima dell'amen, dell'aneto e del comio, e tuttavia non obbedire ai comandamenti di Dio. Capitolo 3 L'Esaltazione Coeredi di Gesù Cristo L'esaltazione, divenire come Dio. A coloro che nel regno celeste riceveranno l'esaltazione è promessa la pienezza. Tutte le cose appartengono loro, sia la vita sia la morte, cose presenti e cose a venire. Il nostro Padre nei Cieli è infinito, Egli è perfetto, Egli possiede tutta la conoscenza e la saggezza. E di questa saggezza e perfezione Egli non è geloso, anzi è felice in quanto è possibile per i Suoi figli che gli obbediscono in tutte le cose e perseverano tutti, fino alla fine di venire come Lui. L'uomo in sé ha il potere datogli dal Padre perché possa progredire nella conoscenza della verità, nell'acquisizione della fede, della saggezza e di ogni altra virtù. Così alla fine Egli diverrà come il Padre e il Figlio. Questa virtù, saggezza e conoscenza acquisite dai fedeli non si diminuiscono quelle del Padre e del Figlio, ma accrescono la loro gloria e il loro dominio. Così è sabito che coloro che sono degni di venire figli e coeredi del nostro Redentore saranno eredi del Regno del Padre e possederanno gli stessi attributi di perfezione che il Padre e il Figlio ora possiedono. Tutto quello che il Padre ha. Coloro che sono fedeli al sacerdozzo di cui sono investiti e fanno onore alla loro vocazione e divengono membri della Chiesa e del Primo Genito, ricevendo tutto ciò che il Padre ha, secondo un giuramento e un'alleanza che non possono essere infranti. Ora, come potranno essi ricevere tutto quello che il Padre ha se qualcosa viene loro negato? E se qualcosa non viene loro negato, come possono ricevere tutto quello che egli ha e non divenire come egli è, cioè dei essi stessi? Come possono i Santi ricevere la pienezza non dissimile dalla sua e non essere come egli è, cioè dei? Il Padre ha promesso per mezzo del Figlio che tutto quello che egli possiede sarà dato a coloro che osservano i Comandamenti. Essi avanzeranno in conoscenza, saggezza e potere, passando di grazia in grazia, finché la pienezza del giorno perfetto si aprirà davanti a loro. Attraverso la gloria e la benedizione dell'Unipotente essi diverranno dei Creatori. Sarà dato loro ogni potere, dominio e vigore, sì che essi saranno i soli su cui sarà riversata questa grande benedizione. Tutti gli altri, quale che sia il loro grado di conoscenza, saggezza e potenza, saranno limitati nelle loro varie atmosfere perché non possono pervenire alla pienezza tenuta in serbo coloro per coloro cui è permesso passare gli angeli e i dèi che sono custodi della vita, della via che conduce alla grande esaltazione. Giungere alla pienezza della luce e della verità Se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Queste sono le parole del nostro Maestro ed è l'obbedienza a Lui e alla Sua parola che schiude le glorie e i ministeri nel Regno dei Cieli, glorie e ministeri che non possono essere dischiusi in nessun altro modo. Tutta la luce e tutta la verità provengono da Dio. Quello che non deriva da Lui non edifica ma porta le tembre. Se persevereremo in Dio, cioè se osserveremo i conondamenti, se lo adoreremo e ameremo la Sua verità, allora verrà il tempo in cui saremo inondati dalla pienezza della verità, che diverrà sempre più splendente fino al giorno perfetto. In tale circostanza riceveremo il potere, la saggezza e la conoscenza perfetta che può essere ottenuta soltanto perseverando in Dio e quindi obbedendogli. L'obbedienza totale ci fa coeredi di Cristo. Se vogliamo divenire re di coeredi di Gesù Cristo e avere benizioni del Regno, c'è soltanto una cosa che voi e io dobbiamo fare, e cioè osservare tutta la legge, e non soltanto una parte di essa. Pensate che sarebbe giusto che il Signore ci dicesse, io vi do i miei conondamenti e voi, se volete, li osserverete. Potrete anche, se lo desiderate, trascurarli. Oppure, osservatene alcuni, gli altri rifiutateli. Oppure, osservatene alcuni e parzialmente, io prima vi punirò, ma poi vi risarcirò e tutto andrà per il meglio. Figli di Dio I fedeli divengono figli e figlie di Dio. Il destino dell'uomo fedele di questa chiesa, nonché della donna fedele, è di diventare un figlio e una figlia di Dio. Questo è il grande dono che il Signore offre ai membri della chiesa. Giovanni scrive quanto segue, ora siamo figli oli di Dio e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Ie. Perché? Perché come figli di Dio avremmo vissuto per essere come Lui. Giovanni intendeva dire che lo vedremo nella forma di un uomo. Ogni uomo ha quella forma, sia che si pentale sui peccati o no. Ogni uomo è stato creato all'immagine di Dio, a sua somiglianza, ma quando verrà Cristo, coloro che avranno osservato i comandamenti e saranno dinanzi a Lui, vedranno la propria immagine uguale alla sua, cioè come figli di Dio. Essi avranno il diritto alle benedizioni dei figli, degli eredi, e il Signore ha promesso loro la pienezza del suo regno di modo che possono avanzare attraverso l'eternità. Il sacerdozio è essenziale per le condizioni di figli. Giovanni stava parlando agli uomini che possedevano il sacerdozio e egli li chiama figli di Dio. Noi siamo i figli di Dio. Quella stessa autorità divina è stata conferita anche a noi. Anche noi oggi dovremo essere altrettanto grati e altrettanto pronti a servire, a osservare i comandamenti del Signore e a fare onore alla nostra chiamata, come lo furono gli uomini dei tempi antichi che erano figli di Dio. Io mi chiedo se ci rendiamo conto della grandezza delle nostre chiamate. In altre parole, gli anziani di questa chiesa si rendono conto di possedere il sacerdozio di Melchisec? Sanno essi che per la loro fedeltà e l'obbedienza secondo le rivelazioni del Signore hanno diritto a ricevere tutto quello che il Padre ha, a divenire figli di Dio, quelli del nostro fratello maggiore, Gesù Cristo, con la posterità di giungere all'esaltazione del Regno Celeste? Ci rendiamo conto di questo? Anche noi, se la comprendiamo, dovremmo essere come gli uomini dei tempi antichi e ogni uomo che abbia in sé questa speranza si purificherà così come Cristo è puro. I figli di Dio divengono quei eredi di Cristo. Molte volte penso a quel passo delle scritture in cui si legge che a coloro che servono i comandamenti del Signore e saranno fedeli fino alla fine sarà dato tutto quello che il Padre ha. Per me questo è un pensiero consolante meraviglioso. Pur non potendo noi comprendere la portata di una tale benedizione, riceviamo tuttavia un raggio di luce. La nostra mente è colpita dall'idea che se faremo le cose che il Signore vuole che facciamo diverremo figli e figli di Dio. Questo è il significato del passo scritturale suscitato. Come figli e figli quindi noi saremo eredi del suo regno e avremo diritto alla pienezza della gloria e alle grandi benedizioni e privilegi che il Signore nella sua misericordia ci ha rivelato nella dispensazione della pienezza dei tempi. Poiché tutti quelli che sono condotti allo spirito di Dio, scrive Paolo, sono figli di Dio. Lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figli di Dio e se siamo figli di Dio siamo anche eredi, eredi di Dio e queeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. I figli di Dio divengono Dei. Se i fedeli che osservano i fondamenti del Padre sono Suoi figli, allora sono eredi del Regno e come tali riceveranno la pienezza della gloria del Padre fino a diventare come il Padre medesimo. E come possono essere perfetti come ha perfetto il loro Padre Celeste se non sono come Lui? Ora, se essi vincono tutte le cose, allora non ci sono delle cose che essi non vincono. Se essi riceveranno della sua pienezza e della sua gloria e se nelle loro mani il Padre ha dato tutte le cose, vuol dire che Egli non ha negato nemmeno un po' della pienezza della sua gloria, né cosa alcuna. E se essi ricevono la sua pienezza e la sua gloria e se tutte le cose appartengono loro, sia la vita sia la morte, cose presenti o cose a venire, tutte sono loro. Come possono essi ricevere queste benedizioni e non divenire Dei? Non è possibile. L'obbedienza completa porta alla condizione di figli. Come faremo a divenire figli e figlie di Dio? Possiamo divenire figli ed eredi del nostro Padre Eterno semplicemente battezzandoci per la remissione dei peccati dopo esserci pentiti di aver avuto fede e dopo che ci sono state imposte le mani per il dono dello Spirito Santo ed essere entrati nella Chiesa? No, ci vuole più di questo. Naturalmente essi sono figli del nostro Padre nei Cieli, così come lo sono il resto, le persone della Chiesa non fanno parte, ma per divenire figli e figlie di Dio, cioè eredi, eredi di Dio e coreedi di Cristo, dobbiamo soffrire con Lui affinché possiamo essere glorificati con Lui. In altre parole, nel nostro cuore dobbiamo accogliere ogni principio del Vangelo che è stato rivelato, vivere secondo tali principi e osservare completamente i comandamenti di Dio. La dotazione e il suggelamento precedono la condizione di figli. Il Signore ci ha concesso privilegi, benedizioni e l'opportunità di fare alleanze e di accettare le ordinanze relative alla nostra salvezza, oltre a quello che viene predicato nel mondo, oltre ai principi di fede nel Signore Gesù Cristo, del pentimento dei peccati, del battesimo e della rimessione di questi ultimi e dell'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo. E tali principi alleanze non si ricevono in nessun altro posto se non nel Tempio di Dio. Se volete divenire un figlio o una figlia di Dio è un erede nel Regno, allora dovete andare nella casa del Signore, ricevere le benedizioni che solo là possono essere ottenute e rispettare quei comandamenti e quelle alleanze fino alla fine. Le ordinanze del Tempio, la dotazione e i suggelamenti riguardano l'esaltazione nel Regno Celeste, dove sono i figli e le figlie. Questi e quelle non vivono in qualche altro Regno, essi vanno nella casa, appartengono alla casa, hanno accesso alla casa. Nella casa del padre minimo ci sono molte dimore. I figli e le figlie hanno accesso alla casa in cui egli dimora, ma voi non potete avere tale accesso finché non andate al Tempio. Perché? Perché si devono ricevere certe parole chiave e fare determinate alleanze per mezzo soltanto delle quali voi potete entrare. Se cercate di entrare nella casa e la porta è chiusa, come fate a entrare se non avete la chiave? Essa la si riceve nel Tempio e con essa sarete ammessi nella casa. Un giorno lungo una strada trovai una chiave, la portai a casa e vidi che essa apriva tutte le porte della mia casa. Ma lungo la strada non si può trovare la chiave che apre la porta che fa cedere alle dimore del padre nostro perché essa non viene mai perduta, si deve andare dove la chiave viene data. Ognuno può avere la chiave se vuole, ma dopo averla ricevuta può perderla facendosela prendere di nuovo, a meno che non tenga fede all'accordo che ha fatto quando è andato nella casa del Signore.